Tutti abbiamo un sogno. C'è chi sogna di diventare un dipendente modello, chi è alla ricerca del posto fisso per fare le 8 ore canoniche e di non pensarci più fino all'indomani. C'è chi invece è stato costretto ad accettare un lavoro non molto appagante per sostenere se stesso e la sua famiglia. Che sognatore sei tu? Ti soledica l'idea di metterti in proprio, ma hai paura di non esserne capace? Vuoi creare da zero qualcosa di tuo, ma hai paura del giudizio e delle persone che ti stanno intorno? Vuoi lasciare il tuo segno nel mondo di cui essere orgoglioso, ma hai paura di ritrovarti solo? Io all'età di 30 anni ho fatto la tua stessa scelta. Ho deciso di creare dal nulla qualcosa di mio che mi rendesse orgoglioso e felice ogni giorno. Qualcosa che contribuisse alla crescita e all'aiuto di tutte quelle persone come te. Persone che hanno un forte desiderio di ottenere di più della propria vita, ma che si trovano intrappolate nelle proprie paure. Nessuna filosofia è la pura verità, perché anche io ero nelle tue stesse condizioni e so per certo cosa significa aver paura. Paura di non esserne capace, paura del giudizio delle persone e la paura di ritrovarmi da solo. È facile? No. Ma con la mentalità giusta, gli strumenti giusti, un modello di business collaudato, ti posso assicurare che puoi riuscirci anche tu. Ed è per questo che oggi hai l'opportunità di entrare nel Cashflow Setup Team, dove incontrerai persone come te. Persone semplici, ma allo stesso momento persone fortemente motivate a raggiungere i propri obiettivi. Riceverai un modello di business collaudato, delle strategie testate ed applicate. Praticamente sarai preso per mano e guidato fino al raggiungimento del tuo successo. Ma ogni lungo viaggio inizia sempre con il primo passo. E per questo ti invito a guardare il webinar sul mio profilo ed iniziare il tuo percorso con Cashflow Setup Team. Attento, non vendiamo corsi, aiutiamo le persone.